amici di or pokemon collection salve a tutti eccoci qua con un nuovo spacchettamento della collezione palestra di streamington dei futuri campioni andiamo a vedere la bellissima collezione che avevamo promesso di aprire nel futuro nel nel video dello spacchettamento dell'elite trainer box di futuri campioni e insieme a questa bella collezione ci andiamo ad aprire questi pacchettini presi dai blisterini doppi andiamo aprire subito subito il packaging della convenzione ecco qua tiriamo fuori la nostra splendida spilletta la promo bellissima c'è in distor eccola qua messa a fuoco bella nella anche la promo andiamo a tirare fuori i 3 pack i 3 pack della collezione sono 4 3 7 che ci possiamo mettere a fianco da aprire sono 7 prendi un'ombra invocata e dove lo pesco e la 10 sarà sicuro no non ci sta c'è uno shining legend ma no prendi un'ombra invocata eccoci qua lascio a te scegliere i pack prendi un'ombra invocata e facciamo così e questo jolly lo lasciamo qua parto io partiamo a futuri cambioni abbiamo rischiato un po' le carte in tavolo con qualche altro pack andiamo a vedere soprattutto i futuri cambioli cosa andiamo a trovare solido trick a quattro e abbiamo un energia lotta liepard bit cinepro rock roof pozione pokeball carvana e canz bit reverse la carta rara e un ricerca accademica che ovviamente è olografica futuri campioni non a carte rare non olo prego a lei abbiamo con ombre invocate di un bellissimo foco stiamo qui dando che ci tiriamo il fantacalcio coedicino il regalo per voi trick a quattro sole e luna trick a quattro ma noi ce l'abbiamo pure contro belotti sta giornata no io contro ce l'ho sidra bello sidra plumeria super rivero ingai rals crab waller che si fa come uno strano bello snizzle venipadats rals reverse e malamar non olografico malamar 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 andiamo con un pacchettino di guardiani nascendi qua si mi ha spacchettato i guardiani nascenti qua si mi ha spacchettato i guardiani nascenti andiamo con trick a quattro e abbiamo un energia tuono barella niccolo barella no non ha segnato hackamon lotteria energia da calcio l'alba padrat litwich panciam snorund cast form proprio pass reverse anche il reverse è strano anche rara e tre venando l'olografico tre venando l'olografico proseguiamo con un altro pack se giocassi a Mugliel si si il papu bello ma si stava ma si stava ottimo bello ma è good proseguiamo proseguiamo con il nostro spacchettamento chica 4 e abbiamo energia oscuro sublime marnie istintivo acqua stufu phantom elfit pel doom tendacool com'è super martello reverse e bello raguazza non olografico però sembra raguazza che pacchetto era questo questo è guardiani nascenti bello raguazza proseguiamo andiamo con i due pack di manelli di futuri campioni guard e war tricca 4 e abbiamo una energia lotta sonia sharpido bello arbok eh si digza con di galar rock roof cura totale screghi e canz ricerca accademia reverse la carta rara è meri olografica di nuovo abbiamo preso un doppio allenatore l'ultimo pacchetto di futuri campioni buriel fuori gioco tricca 4 andiamo a vedere andiamo a vedere l'ultimo pacchetto di futuri campioni abbiamo un'energia foglia bitril megaball sonia widdoll leoni di galar carvana sua blu si ziplit pullo in reverse e la carta rara è corsola di galar v una vita questa palestra bellissima corsola di galar v e va bene ci abbiamo l'ultimo pack di ombre invocate vado io vai vai andiamo l'ultimo pack di ombre invocate l'ultimo pack di questo spacchettamento forse è anche l'ultimo tentativo di poter aprire una un charizard diver è la voglia ce lo dà perché di queste bustine le abbiamo ferite andiamo a fuoco trick a 4 e andiamo a vedere in quest'ultimo pacchetto cosa c'è energia foglia bellissimo pori con 2 po dusclops croakung bellissimo il pikachu pampur cutie fly panzer sandigast reverse la carta rara è un di anzi olografico di anzi olografico che è molto molto decendrata e da your pokemon collection è tutto se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale salve a tutti grazie a tutti